La grafica Ventiquattresima giornata nel Girone F, Cesena-San Giustese 1-1, Campobasso-Iesina 1-1, Castelfidardo-Matelica 0-2, Isernia-Savignanese 1-1, Montegiorgio-Forlì 1-0, Notaresco-Avezzano 2-4, Olimpia-Agnonese-San Maurese 1-1, Pinetore-Canatese 1-3, Rial Giulianova-Francavilla 1-4, Vastese-Sant'Arcangelo 2-2. In classifica 54 punti per il Cesena, Siegue a quota 46, Matelica, Notaresco 40, San Giustese 39, Recanatese 38, Francavilla 37, Montegiorgio 35 punti, 34 per il Pineto, San Maurese 32, 30 punti per la Savignanese, Rial Giulianova 29, Campobasso 28, Vastese 27, Iesina 25, 24 per Avezzano, Forlì e Isernia 23, Sant'Arcangelo 22, Olimpia-Agnonese 20 punti, ultimo a quota 14, il Castelfidardo. Pareggio a Selvapiana del Campobasso contro la Iesina. A Selvapiana giusto pareggio fra Campobasso e Iesina su un campo malconcio a causa delle recenti nevicate. A Fracassini dei marchigiani risponde Cogliati nel giro di tre minuti. Il Campobasso costruisce complessivamente poco ma riesce ad allungare la striscia positiva a 10 risultati. La Iesina si rivela un avversario non tecnico ma molto battagliero. Dirige Munerati di Rovigo di fronte a circa 450 spettatori. Dopo una fase iniziale di emozioni con il contagocce, ecco la scossa al tredicesimo con Iabre che entra in area. Sembra voglia concludere. Sulla traiettoria si intromette Cruz che segna ma la marcatura non vale per fuorigioco del brasiliano. Tra l'altro ex di turno dopo 60 secondi Giacobbe spaventa l'uno marchigiano con un lob che bacia la parte alta della traversa. Iesina tutt'altro che arrendevole a Selvapiana al ventitresimo punizione di bordo di poco alta sulla traversa. Mentre un solo minuto più tardi sulla conclusione dello stesso bordo si intromette Cruz che prende palla e sposito. Quest'ultimo rimane a terra abbastanza tramortito per qualche secondo. Il campo basso affidato alla guida tecnica di Piccirilli causa squalifica di Bagatti fa fatica a rendersi insidioso anche per il pressing alto che esercitano gli avversari. Alla mezz'ora angolo di bordo palla per Ricci che riceve e si defila prima di trovare Sposito pronto sul suo palo. Al trentatresimo passa la Iesina anche legittimamente sempre bordo a tagliare l'area di rigore e a trovare la torre di Marini per la zampata vincente di Fra Cassini. 1-0 per gli ospiti a Selvapiana. Probabilmente era lo schiaffo che serviva al campo basso per darsi una decisa scossa. Devono passare infatti soltanto tre minuti per un assist tagliente di Giacobbe su cui la zampata giusta la sferra Cogliati. Fino a quel momento abbastanza anonimo il campo basso rimette subito le cose a posto con Giacobbe che conferma la sua profonda vena di uomo assist. Intorno al quarantesimo si fa male Tommasini deve entrare al suo posto Calzola. Nessun cambio nell'intervallo partita che appare più viva dalle prime battute della ripresa. All'ottavo il tiro di Trudeau scorre al lato. Al decimo sgambetto di Ranelli a Pasqualini. Secondo giallo per lui rossoblu con un uomo in meno per tutto il secondo tempo. Pronto un altro cambio nei locali fuori di Paolo dentro di Lauri. Una fase di sofferenza per il campo basso 20 minuti per una punizione di Marini che a centro area non riesce ad addomesticare la sfera. Mentre un solo minuto più tardi calcio piazzato di bordo dal limite finisce al lato della porta di Sposito. I marchigiani vogliono credere alla vittoria. Stessa ambizione dei lupi che dal ventiquattresimo rivedono in campo Musetti al posto di Alessandro. Una nota positiva segnale della guarigione della punta rossoblu. Dal trentatresimo Ciampelli inserisce Pierandrei al posto di un cruz abbastanza in ombra. Nei lupi dal trentasettesimo dentro anche Islamai al posto di Salvatori. La tecnico cerca di dare un supporto a Musetti abbastanza isolato in attacco. Mentre al quarantatresimo break della Iessina che va verso la porta con Barbetta che conclude con presa centrale di Sposito. Il campo basso complessivamente riesce a produrre poco in attacco. Complici anche una ripresa condotta con un uomo in meno. Il pubblico di Selvapiana spesso si indispettisce per dei mancati cartellini al numero 10 marchigiano Ricci. Segno di una disparità di trattamento a dire del pubblico presente. Il finale è della Iessina. Siamo al quarantanovesimo quando Villanova imposta ed allarga per Zannini che mette al centro. E Pierandrei a mancare il vantaggio ospite. Questione di pochissimo. Un minuto più tardi la punizione distante di Villanova si spegne a lato. La Iessina si tiene stretta a un buon pareggio. Il campo basso si proietta al recupero di mercoledì contro la Sangiustese. Ha pareggiato anche l'Isernia all'Ancellotta contro la Savignanese. Porta a casa il secondo risultato positivo l'Isernia di Mister Silva che esce dall'Ancellotta con un pari dopo la rimonta della Savignanese. Gli avversari si fanno subito avanti. Il primo a farsi sotto è Longobardi che ci prova da buona posizione ma nulla di fatto per lui. Al settimo minuto esce Tano nel tentativo di anticipare l'avversario ma la sfera filtra. Per fortuna c'è Ciacic a metterci una pezza. Decimo minuto. Il portiere di casa si fa trovare pronto su questa conclusione di Peluso. Siamo al ventesimo e vediamo l'Isernia. Riceve Fazio che manda però alle stelle. Poco dopo ancora i padroni di casa. Cross di Fazio arriva Petitti e insacca l'1-0 per i Pentri. Al trentaduesimo c'è un contatto tra Schena e Vandi che il signor di Cicco della sezione di Lanciano giudica regolare. Trentasesimo minuto ancora Fazio per Petitti che però sfiora solo la sfera e dall'Ara brocca senza problemi. Al trentanovesimo Frabotta per Petitti che insacca ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Sul vantaggio di casa si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci stiamo alla ripresa dove al secondo minuto di gioco arriva già il pareggio ospite. Da Giacobbe riceve Noschese che è lasciato libero di girarsi e insaccare per l'1-1. Al diciassettesimo dal corner riceve Longobardi che di testa non inquadra lo specchio. Al ventisesimo con la conclusione di Romano si guadagna un corner dallo stesso né Di Leonardo prima né Ciacic dopo inquadrano lo specchio. Al quarantasesimo per la Savignanese dalla bandierina riceve Ballardini che manda fuori. Chiusura di gara tra le proteste, fallo su Romano ma il direttore di gara non giudica irregolare l'intervento di Brighi. Anzi va a punire Romano per simulazione. Termina così l'incontro con un punto portato a casa da Lisernia in vista del recupero di mercoledì contro il Forlì. Un punto a testa tra Olimpia Agnonese e San Maurese all'Acqua Sant'Anne di Trivento. Ancora al quarto che dalla sinistra lascia partire un traversone a mezza altezza. Bella la girata al volo da parte di Salim Ribeiro dall'altra parte però che non crea particolari affanni all'estremo difensore romagnolo. Al ventesimo minuto di gioco arriva il calcio di punizione battuto per la San Maurese ottimamente a giro ma è bravo Maraolo a distendersi sulla propria destra e a sventare questa pericolosa azione d'attacco da parte degli ospiti. Al ventitresimo rilancio lungo di Maraolo che sfrutta il forte vento che batte sull'Acqua Sant'Anne di Trivento per cercare di mettere in difficoltà gli avversari in netta apprezzione e baldassarli nettamente fuori dall'area di rigore. Riesce in qualche modo a sbrogliare la matassa con un colpo di testa sventando la pericolosa azione agnonese. Al ventisesimo disattenzione in marcatura di Luca Cassese che si lascia a girare da Pieri molto bravo ad incunearsi alle sue spalle. Si ritrova a pochi metri da Maraolo ma non riesce a calciare verso lo specchio della porta agnonese. Al trentatresimo minuto di gioco è Maraolo a smanacciare il pallone su un traversone operato in bello stile da Scarponi. Un'indecisione da parte dell'intera retroguardia granata nel cuore della propria area di rigore. Il più lesto di tutti è Pieri che va ad infilare la porta agnonese per il vantaggio della San Maurese. Due minuti più tardi arriva una conclusione da fuori da parte dell'Olimpia agnonese deviata in corner senza creare particolari affanni a Baldassarri. Quarantaquattresimo Litterio perde ingenuamente ancora una palla al limite dell'area di rigore granata e spalanca le porte a Pieri che chiama all'intervento Maraolo che in due tempi riesce a far su alla sfera a terra. Nella ripresa non c'è sicuramente una partenza vehemente da parte dell'Olimpia agnonese. Un'agnonese sicuramente scesa dopo il vantaggio degli avversari. Un'agnonese che prova nella ripresa a farsi subito pericolosa al terzo minuto senza sfruttare però l'occasione che le capita e regalando anzi un'azione pericolosissima a Scarponi che sfrutta un'indecisione in copertura da parte di Gentile per calciare verso la porta di Maraolo che però non ha problemi ad abbrancare il pallone in presa e a riavviare la nuova azione offensiva per la propria squadra. Al sesto minuto è Diarrà che smorza in malo modo un pallone, quella che voleva essere una conclusione, verso la porta avversaria diventa quasi un assist per Salim Ribero che non arriva in corsa ad impattare con la sfera. La stessa finisce a fondo campo tramutandosi in un'azione poco pericolosa per la San Maurese. Al quindicesimo è ancora Diarrà da destra, bello il suo traversone tagliato nel cuore dell'area di rigore della San Maurese per il neoentrato Formuso che di testa gira verso la porta avversaria ma senza inquadrare lo specchio della porta. Al diciassettesimo Cassese in corna su calcio d'angolo battuto da Salim Ribero trova sulla traiettoria della propria sfera un avversario, non riesce a guadagnare altro che un corner per gli alto molisani. Errore di Niang, un giro di lancette più tardi in ripiegamento di Venzivo, spalanca le porte alla corsa del velocissimo Lovati. Un Lovati che prova a beffare Maraolo con un bel tiro dritto per dritto, la sfera però termina di non molto alto sulla trasversale della porta molisana. Un ventesimo minuto di gioco della ripresa però arriva l'azione più decisiva del match per gli alto molisani. Fallo in area di rigore della San Maurese commesso da Souma In, entrato da poco in campo a rilevare un giocatore infortunato per i romagnoli su Salim Ribero. Arriva puntuale il fischio del direttore di gara che assegna il penalty agli alto molisani. Ricciardi impiegato nella trasformazione, freddissimo dal dischetto nello spiazzare l'estremo difensore Baldassarri regalando il momentaneo 1-1 all'Olimpia agnonese. Prova a schiacciare sull'acceleratore la formazione di Antonio Foglia Manzillo. Ci prova anche al 42esimo della ripresa quindi a pochi sgoccioli dal fischio finale con Mazzarani. L'ha appena entrato in campo l'esterno sinistro molisano, il suo sinistro da distanza siderale però non crea problemi a Baldassarri che blocca tranquillamente il pallone in presa. Dunque una gara che termina dopo 5 minuti di recupero. Un agnone sicuramente più propositiva rispetto a quella vista ultimamente di scena in quel di Trivento. Un Olimpia agnonese che però non riesce ancora a conquistare l'intera posta in palio. Non va oltre l'1-1 e si prepara per il recupero infrasettimanale di mercoledì contro il Cesena in quel di Termoli. Adesso il basket femminile di serie A2. Basket femminile di serie A2. Civitanova Marche, Cestistica Orvieto 80-59, Faenza Forlì 83-52, La Molisana Campobasso Pistoia 77-53, Palermo Cestistica Savonese 77-57, San Giovanni Valdarno Elite Roma 82-63, Selargius Atena Roma 79-52, Spezzina Bologna 56-70, Umbertide Cuscaiari 64-59. In classifica 32 punti per la Molisana Campobasso 28-8, Palermo Faenza Bologna e Spezzina 26, Umbertide 22-22, Selargius 20, San Giovanni Valdarno 18 punti, Civitanova Marche 16, Cuscaiari 12, Pistoia 10 insieme all'Elite Roma e l'Atena Roma, Cestistica Savonese 8, Cestistica Orvieto 6, chiude a 2 punti il Forlì. 16 successo su 17 partite per la Molisana Basket Campobasso, che ha vinto anche contro Pistoia. Nessuno passa al pala a Selva Piana, anche se il poggio bugianese ha impensierito e non poco la Molisana Basket Campobasso. Nel primo quarto le Rosso-Blu hanno fatto i conti con tanti errori in fase d'attacco ed anche la difesa ha lasciato a desiderare. Dall'altro lato la formazione di Pistoia è ispirata e ha chiuso i primi 10 minuti di gara sul più 4, 17-13. Prosegue il Magic Moment delle ospiti anche nel secondo periodo, dove arrivano anche ad un vantaggio in doppia cifra, 23-13. Finalmente le padrone di casa hanno una reazione da capolista e piazzano un parziale di 10-2 con la tripla di Bove, che significa il sorpasso sul 28-27. Da quel momento in poi, tranne una parità a 29 con il canestro di Giotos, le Toscane non hanno più messo la testa avanti ed un'altra tripla di Bove ha chiuso la seconda frazione di gioco sul più 4, 37-33 all'intervallo lungo. Dopo la sosta la Magnolia allunga ulteriormente il vantaggio, al trentesimo siamo sul più 14-51-37. Da notare i soli quattro punti concessi al poggio bugianese. Nell'ultimo periodo c'è spazio per tutte, anche per le under, San Martino, Falbo e Mandolesi. Queste ultime due mettono anche i loro punti per incrementare il definitivo 73-53 con la quale la Molesana a basket campo basso archivia il sedicesimo risultato utile in 17 gare disputate contro il poggio bugianese. Nuoto questo fine settimana, l'H2O Sport ha organizzato il primo meeting nazionale nella piscina di Vasto, gare in programma sabato e domenica. Calcio a 5 regionale, ieri al Pala Selvapiana si sono giocate le finali di Coppa Italia per la finalissima maschile Sporting Benafro, abbattuto l'FC 4-2. La Coppa Italia regionale è un affare per due a Benafro, ma il trofeo tricolore approda sulla sponda Sporting. 6-2 il punteggio finale al Palafira di Campobasso per Fabrizio Bagnoli e compagni a spese della polisportiva. Prima del match i giocatori indossano una t-shirt e portano uno striscione con il massaggio Molise senza sostanze stupefacenti, veicolato da Procura. Questura e ordine degli avvocati di Campobasso è rilanciato dalla FIGC. Il primo tentativo è di marca Sporting. Valletta serve la bella suppunizione, ma il numero 19 non colpisce bene. Un minuto dopo le parti si invertono, ma l'esito è ben diverso, con Valletta che in diagonale dalla destra insacca l'1-0 rosa-nero. La reazione della polisportiva è in questo doppio tentativo di Pasquale con lo Sporting Benafro che si salva con Di Paolo. Ma al 23esimo Valletta si conferma una spina nel fianco della polisportiva e ancora in diagonale sigla il 2-0 per lo Sporting Benafro. Nel finale di tempo, altra ripartenza amicidiale del rosa-nero. Questa volta Iacovino è solo davanti a Tomei e lo supera con un tocco d'esterno morbido ed è triste per lo Sporting. Nella ripresa la polisportiva riparte con un piglio diverso e al secondo la punizione gol diretta di Palumbo non viene convalidata dagli arbitri MF novelli di Campobasso perché nessuno tocca il pallone al numero 12 bianconero prima della conclusione a rete, cosiddetta di seconda. La polisportiva si riversa in avanti e trova il gol dell'1-3 con Verola che rimette in mezzo un pallone su cui Di Paolo non è irreprensibile. Al quinto, altra chance per Verola che calcia alto da buona posizione. La polisportiva spreca e lo Sporting incrementa il bottino. Iacovino serve di Cristinzi che non fallisce il 4-1. Ma la polisportiva Venafro è ancora viva perché Montanaro si libera bene in aria e lascia partire un tiro secco su cui Di Paolo non può nulla, 2-4. Al ventunesimo ancora polisportiva pericolosa con Corbo direttamente da Corner che pesca Passarelli il quale si coordina bene ma non trova la porta. Nel finale la polisportiva inserisce ad Esimo nel ruolo di portiere di movimento per aumentare la spinta ma si espone alla ripartenza avversarie. Prima Valletta pesca il Gioli dalla distanza per il 5-2 e la tripletta personale e poi Di Cristinzi recupera palla a metà campo e c'entra il bersaglio per il C2 definitivo che consegna il primo trofeo tricolore allo Sporting Venafro nel suo primo anno di attività. Gli ottavi di finale della fase nazionale con la vincitrice dell'Umbria andata il 12 febbraio in Molise e ritorna in trasferta il 26 per sognare lungo tutto lo stivale. Per la finale femminile l'Arcadia Termoli ha vinto 7-2 contro la Frenter Larino. Al Palafiera di Campobasso si è disputata la finale regionale Coppa Italia a calcio a 5 femminile tra Arcadia Termoli e Frenter Larino. Le due squadre sono scese in campo con lo striscione e le magliette della campagna di sensibilizzazione Molise senza sostanze stupefacenti promossa dalla Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Questura di Campobasso. Il match finisce 7-2 in favore delle Termolesi. Al sesto minuto del primo tempo è la Moroncini a sbloccare il risultato approfittando della uscita avventata del portiere. Termoli 1 Larino 0. Al decimo d'amico diagonale con il destro il pallone prende il palo interno. Al quindicesimo Vizzarri avrebbe potuto sorprendere la Petrillo momentaneamente fuori dai pali ma non vi riesce. Ma al diciottesimo è Caruso ad affondare il secondo fendente recependola diagonale dalla destra della D'amico. La stessa che al ventiduesimo per doppia munizione viene espulsa. Il Larino non riesce ad approfittare della inferiorità numerica momentanea delle avversarie che al ventiseiesimo insaccano il terzo gol e la doppietta di Moroncini in un perfetto contropiede. Al ventottesimo giravolta nell'area piccola di Yolanda Rossi e la palla termina alle spalle della Petrillo. Termoli 3 Larino 1. La Vizzarri non demorde e al trentunesimo ci riprova ma non inquadra lo specchio della porta. Si rientra dall'intervallo e dal sesto la di Iorio porta il Termoli a quota 4 gol su corner della Caruso. All'undicesimo la Moroncini supera in dribbling la Campitelli ma la palla si stampa sul palo ma poi con un leggero tocco la numero 11 gonfia la rete. Termoli 5 Larino 1. Corre il quindicesimo Caruso e a tu per tu col portiere lo supera e va in gol ma non finisce qui. Dopo tre minuti la numero 9 infila la palla nell'angolino con l'esterno destro. Termoli 7 Larino 1. Siamo al ventesimo quando Lucia Rossi segna il gol dell'orgoglio ferito ma 10 minuti dalla fine è dura recuperare il 7 a 2. Il match si chiude con l'ultimo tentativo della Vizzarri ma la Petrillo è vigile ed il Termoli si aggiudica il match ed il 13 febbraio giocherà l'andata degli ottavi di finale con la vincitrice della Coppa Italia Calabrese e disputerà il ritorno il 27 febbraio in casa. Vittoria interna per il Frosolone che ha battuto 5 a 3 il Castel del Giudice. Alla palestra comunale di Frosolone i padroni di casa superano 4 a 3 il Castel del Giudice e agguantano in classifica proprio gli ospiti al terzo posto a quota 18 punti. Una gara bella ed equilibrata condotta dal Castel del Giudice per buona parte dell'incontro. Con il montaggio di Marco Porcarelli andiamo agli highlights. La sbloccano subito gli ospiti alla prima azione da gol. A meglio va via sulla destra assist comodo per Fabrizio Petrocelli ed è 1 a 0. Buono l'avvio del Castel del Giudice che raddoppia al decimo sempre con Fabrizio Petrocelli, tiro dalla lunga distanza, Camarda non arriva. Si sveglia il Frosolone, piazzato di Terriaca, sfera deviata, Petrocelli salva sulla linea. Al diciannovesimo accorciano i locali. A solo di Andrea Ricci azione Caparbia, tocco Mancino e sfera nel sacco. Nel finale Frosolone avanti, imbucata di buon gusto, lob poco preciso di Vitolone. Poi gli ospiti, Petrocelli trova il corridoio per Diciò che spreca il Tris. Ripresa bellissima, con tante emozioni. A trick per Fabrizio Petrocelli, punizione tesa, sfera all'angolino ed è 3 a 1. Il Frosolone non demorde, si scuote Bomber Terriaca. Al tredicesimo, imbucata di buon gusto, l'istinto del 10 di casa. Controllo e girata al volo per accorciare le distanze. Poco dopo lancio di Camarda, Ianiro impatta di testa per il 3 a 3. Match in costante equilibrio, la svolta arriva a 5 dalla fine. Ianiro per Terriaca, dribbling in un fazzoletto e sorpasso Frosolone nell'estasi del pubblico di casa. Grande esultanza del 10 di casa. Il Castel del Giudice ha però l'occasione per pareggiare i conti. Tiro libero, sempre Fabrizio Petrocelli. Questa volta la sfida la vince Camarda che respinge il tiro del numero 4. Ospite nel recupero Cirelli, direttamente da calcio di punizione, fissa il finale sul 5 a 3. Dunque nella prima giornata di ritorno il Frosolone agguanta la terza posizione in classifica e dunque proverà a lottare per i play-off sino alla fine del campionato. Da oggi a venerdì la nazionale italiana di calcio a 5 del neocommissario tecnico Musti sarà impegnata nel raduno di Novarello che precederà le due gare amichevoli in trasferta contro la Romania che si giocheranno il 4 e il 5 febbraio. Tra gli azzurri è convocato anche il molisano Umberto Caruso del signor prestito CMB. Primo molisano ad indossare la maglia dell'Italia. Adesso il calcio d'eccellenza. Campionato di eccellenza. Il Rocca Sicura ha vinto 2 a 1 a Boiano. Finisce 1 a 2 al Colalillo di Boiano tra i padroni di casa e Rocca Sicura. Un ottimo tirato primo tempo che regalano poche emozioni. 40 secondi ed è subito brivido con Diallo che dalla sinistra è in ottima posizione e non inquadra lo specchio della porta per poco. Al dodicesimo il Boiano si illude con questo gol di Mustafat Touré che però viene annullato per posizione irregolare. Al ventitreesimo ecco la svolta. Ci prova Diallo di testa su cross di Touremba Bakary. Maggi deve in angolo e proprio sul corner Palange di testa mette la firma sul gol del vantaggio. Al ventiseiesimo c'è ancora Touré per Diallo che scivola rovinosamente davanti a Maggi. Al ventisettesimo ecco anche Rocca Sicura che sfiora il pareggio ma Spadone c'è. Al ventottesimo ancora Diallo protagonista a Porta Sguarnita ha un'occasionissima ma Di Giulio salva tutto. Sul vantaggio dei padroni di casa si va negli spogliatoi. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. Il Rocca Sicura che nel primo tempo è riuscito ad arginare le incursioni del Boiano è ora alla ricerca del riscatto. Al dodicesimo c'è questo passaggio di Renzulli per Canale che non ci arriva per pochissimo. Un minuto dopo eccoci in piena tensione durante uno scontro tra Diallo e Canale. Per il numero 4 ospite si teme il peggio ma poi per fortuna l'allarme rientra. Eccoci al sedicesimo con un altro tentativo da parte di Rocca Sicura ma Scampamorte di testa riesce solo a scheggiare il palo. Poco male perché un minuto dopo amoroso sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce ad infilare la rete bianco-rossa e a ristabilire la parità in campo. Al venticinquesimo succede di tutto e di più. Vediamo uno scontro tra Fraraccio e Sebastiano Sabatino ma a quanto pare il direttore di gara Gavini della sezione di Aprilia ravvede altro per cui Sabatino guadagna il rosso diretto ed è costretto a lasciare il campo. Al trentasettesimo ancora è Rocca Sicura all'attacco con Fraraccio che ci prova di testa ma Spadone para. Non riesce a fermarlo invece un minuto dopo quando il numero 9 ospite ha l'occasione di passare in vantaggio e lo fa con un gran tiro. Una gran prova insomma quella del Rocca Sicura contro una grande squadra come il Boiano che soprattutto nel primo tempo ha dimostrato tutto il suo valore lasciandosi prendere però almeno nella seconda frazione di gioco da troppo nervosismo. Pareggio tra Frentania e Termoli Un pareggio tra Frentania e Città di Termoli nel quasi derby della diciottesima giornata che infiamma il campionato di eccellenza. Di fronte due squadre, tra l'altro Limitrofe, Termoli e Frentania, Serra Capriola due squadre alla caccia di un risultato particolare e diverso il Termoli per cercare di rimanere sulla scia playoff la Frentania invece per evitare i play out squadre in campo dopo dieci giri di lancette e subito la Frentania protagonista con un lancio in profondità di Troiano per Falco che con il suo piede il destro va a calciare di forza palla che si stampa sulla traversa e si spegne incredibilmente sul fondo momento importante per la Frentania passano due minuti ed è De Nicola dalla media distanza che prova la conclusione non inquadrando però lo specchio della porta pallino del gioco prevalentemente per i pugliesi nel primo tempo che vanno sempre vicino alla caccia del gol qui al ventunesimo De Nicola gira bene dalla lunetta ma non inquadra lo specchio della porta break del Termoli al minuto numero 27 con la formazione adriatica con Gagliano che mette in mezzo per Cotello carica il destro il capitano dal limite dell'area di cuore palla abbondantemente sul fondo un minuto più tardi però mette bene il pallone in area Camponesco Cercio alla meno peggio si salva arriva da dietro con la conclusione a giro Camponesco che incredibilmente calcia la sfera alta sulla traversa la Frentania però è in partita e vuole ovviamente sbloccare il confronto 31esimo a giro la punizione di De Nicola che diventa difficile per Capozzi perché la sfera rimbalza davanti al 37esimo il confronto si sblocca il cross da parte di Colucci la testa di De Nicola lasciato incredibilmente solo in quella zona l'incornata vincente del Rosso è giusta e la Frentania trova il gol del vantaggio al 37esimo del primo tempo con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa tutt'altra partita primo tempo di Chiara Marca Pugliese nella ripresa il Termoli a partire ha sprombattuto al terzo minuto la formazione adriatica si fa vedere con l'inserimento da parte di Varriare che di testa riesce a colpire però non inquadrando lo specchio della porta pressato da D'Ambrosio alle sue spalle al decimo si fa vedere anche il colore del Corog beta dalla media distanza prova il tiro cercia la grande in tuffo gli va a dire di no riuscendo a deviare la sfera 17esimo ancora il Termoli protagonista con un tentativo da parte di Varriare sul pallone lungo in profondità l'ex Napoli che riesce a controllare il pallone dal limite mette in mezzo e Camponesco riesce a girare in rete e trovando il gol del pareggio per la formazione adriatica al minuto numero 17 il Termoli però è lì in gara al 27esimo pallone lungo in profondità la sfera viene leggermente rinviata Cotello carica il destro però anche qui non inquadra lo specchio della porta 31esimo ancora Adriatici con Camponesco che riesce a trovare lo spazio in area di rigore ben servito da parte di Cotello il giocatore con la casacca numero 7 si inserisce bene, va alla conclusione però Cercio in qualche modo riesce a trovare la sfera fra le sue mani minuto numero 32 si vede finalmente nella ripresa alla Frentane all'inserimento di Colucci che riesce a trovare Tarantino carica il sinistro, l'attaccante la sfera termina di poco alta sulla traversa 33esimo, l'azione più ghiotta della partita per i pugliesi con l'inserimento da parte di De Nicola pallone che Tarantino mette in mezzo per Falco e Mancino a girare con il sinistro Capozzi reattivo in tuffo gli va a negare la gioia del gol succede tutto al 34esimo in area di rigore Capozzi esce Marsilio nel tentativo di allontanarsi viene toccato da dietro c'è fallo poi Capozzi rimette male Capozzi va a franare su Marsilio la Frentanea chiede chiaramente il calcio di rigore il direttore di gara lascia proseguire capovolgimento di fronte potrebbe arrivare la beffa per i pugliesi variale a tu per tu con Cercio che lo riesce in qualche modo ad ipnotizzare finisce con il pareggio 1 a 1 fra Frentanea e Città di Termoli il Riccia ha pareggiato in casa contro il Treppini punto prezioso in chiave salvezza per l'Olimpia Riccia che impone il pari al Treppini Sporting Matese e può guardare al futuro con maggiore fiducia la squadra di Mario Cordone, squalificato gioca un'ottima gara contro un avversario di livello e muove la classifica in attesa dello scontro salvezza di sabato prossimo contro l'Alife dirige Aurisano di Campobasso con le immagini di Loreto Cerasuolo vediamo com'è andata si presenta subito la formazione ospite e Raucci da buona posizione ad aprire troppo il compasso con la sfera che termina a lato la risposta dell'Olimpia è affidata a Palmieri il cui tiro viene parato da Gallone il vantaggio ospite si materializza al diciottesimo quando Vecchio lascia partire un tiro preciso dalla distanza con la sfera che si insacca alle spalle di Fanelli Olimpia Riccia 0-3 Pini 1 incassata la rete l'Olimpia non si scompone anzi, minuto 29 è di Griscio a chiamare alla grande risposta di piede Gallone che si oppone da campione poco dopo la mezz'ora arriva il meritato pari dei locali di Griscio assiste Palmieri che davanti a Gallone lo supera con un bel pallonetto tutti in piedi al Poce Olimpia Riccia 1-3 Pini 1 nella ripresa all'undicesimo Di Matteo mette al centro Vecchio conclude con sfera fuori dallo specchio il Riccia si difende con ordine e offende con ficcanti ripartenze come al venticinquesimo quando Antonio Cioffi va al tiro dopo una rifinitura di Palmieri palla alta sulla traversa due minuti più tardi arriva la più grande chance per i padroni di casa sull'asse di Griscio Davide Ruggero sulla conclusione del 10 di casa Gallone cala la saracinesca ed evita la capitolazione poco dopo la mezz'ora va alla conclusione sempre Davide Ruggero palla fuori minuto 36 ripartenza Olimpia con Palmieri che conclude ma in offside nel finale la formazione di mister Cordone colleziona due corner consecutivi ma non riesce a trovare la rete della vittoria per i fortorini l'1-1 fa classifica e morale il Treppini dovrà concentrarsi sulla finale di Coppa Italia in programma domenica contro il Vairano Campionato di promozione Campionato di promozione Campobasso Aurora Capriatese 1-2 Cliternina Aurora Ururi 0-0 Donchessagnone Santeliana 1-2 Biccarispinete 1-0 Castel di Sangro Trivento 4-2 Comprensoro Verano Baranello 2-0 Polisportiva Fortore Ripalimosani 1-0 Termoli 2016 4 Torriceuti 2-0 La classifica si apre con il Comprensoro Verano a quota 44 punti 43 per la Capriatese 38 Baranello Biccari 33 Donchessagnone 32 29 punti per Castel di Sangro e Ripalimosani 24 Trivento e Campobasso Termoli 2016 23 punti Aurora Ururi 19 4 Torriceuti 17 Fortore 15 Santeliana 13 Spinete 12 9 punti per la Cliternina Rugby Gli Hammers Rugby Campobasso a Telese per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C2 hanno vinto con un 46-7 frutto di 8 mete 3 delle quali trasformate adesso i risultati di prima categoria Prima categoria Girone A Atletic Mignano alla Fidelis 0-0 Bois Vairano Macchia 0-4 Masserie La Corte Sporting La Pietra 2-2 Pozzilli Real Prata 1-4 Torre Piccilli Roccaravindola 4-3 Volturnia Forulum 3-1 In classifica 36 punti per Volturnia Masserie La Corte 22 alla Fidelis 20 Sporting La Pietra 19 punti Macchia 18 Pozzilli 17 a seguire tutte le altre Per il Girone B Atletic San Pietro in Valle Real Gildone 3-0 Campobasso Rinascita Molise 6-1 Carpinone Miranda 3-1 Matrice Audax Toro 0-0 Pesche Sporting Ielsi 5-0 Quartiere Nord Carovilli 1-2 Riposato il Macchia Valfortore 23 punti per il Carovilli Pesche 22 insieme a Macchia Valfortore 21 punti per Campobasso e Miranda 18 punti per Quartiere Campobasso Nord a seguire tutte le altre Girone C Rinviata la gara a Trangioina Colletorto e Difesa Grande Porticone Fiammalarino Turris 1-2 Guardia Alfiera Torre Maggiore 2-3 Rinviata anche Marone a Campomarino Petacciato Polisportiva Calena 3-2 così come Sant'Angelo Limosano Casali Dauni 27 punti per il Torre Maggiore Sant'Angelo Limosano 25 Maronea e Petacciato 24 punti Turris 22 Polisportiva Calena 17 punti a seguire tutte le altre squadre Vi ricordo l'appuntamento di stasera alle 21 con Molise a Calci insieme a Gianni Bruno e a Erika Rico avremo ospiti commenti e naturalmente l'attesissima Moviola Molise a Calci stasera alle 21 sempre e solo su Tele Molise è tutto buon pomeriggio Grazie a tutti